Qui ho fatto la composizione di due fotografie per darvi tutta la spaziosità della crescente da guarda, di quello che è la crescente da guarda. Guardatela bene perché tra un po' mi sa che non la vedrete più, in quanto un'azienda che lavorava da dentro si è trasferita e quindi attualmente vi è spragliato e non promette niente di volo come sempre in questi casi, visto che è una cosa privata. Questo è quanto è rimasto delle cascine dell'Alta Guardia che erano un gruppo di cascine, tanto importanti da lei, come la strada che conosceva ad esse. Cascine che si estendevano, l'uomo che abbiamo visto partire dai Basteoli, fino oltre l'attuale Scalpia di Porto Armato, perché la Vintas, e c'erano queste cascine molto aggroppate, più alte un pochino più giù. Di tutto questo è rimasto soltanto questo, più un altro paio di cascine, che era un po' è stata debolita negli anni 90 e qualche cosa, e adesso l'altra è un po' il territorio, comunque sono quello che ci è rimasto delle cascine dell'Alta Guardia. Non c'è molto d'altro perché la zona è per il livello in Urbata, quindi c'era anche un pezzo di strada che poi è stato stupidamente asfaltato, perché tanto era una strada che non veniva usato dalle auto, dove si vedevano ancora la risada e le carnarecce, quindi fino a una decina di anni fa, una strada che dimostrava tra l'altro il passaggio proprio di questa via e che spuncava esattamente dietro questa scena. No 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 No